Innanzitutto, prima di entrare nello specifico, quindi nel caso del mostro di Firenze e dei compagni di Merende, bisogna sicuramente dire che questa è un'influenza, quella che si crea tra Masmilia e Notizia Criminis, che diventerà poi caso ai noi mediatico, è un'influenza tavica, sempre esistita nei contesti sociali, ovviamente avveniva in una maniera diversa, perché diversa secondo quello che è il relativismo culturale, è appunto la società, il modo di investigare su una notizia criminis e le conseguenze sociali. È ovvio che in un contesto sociale dove i mass media non erano così evoluti, c'era quello che viene definito un processo di scotomizzazione, che letteralmente vuol dire oscuramento di tutta una serie di processi sociali e di costruzioni della notizia, perché si dava importanza semplicemente ad altre problematiche di tipo sociale, sociologico, si costruivano altre realtà. È ovvio che questa urgenza, questa che è diventata un'urgenza sociale e una conseguenza piuttosto negativa sulla notizia criminis, sul litter dei processi, non veniva analizzata, perché la percezione sociale a riguardo era molto sminuita appunto da una sovraesposizione di altri elementi, di altre problematiche. Purtroppo la storia ci insegna, ancora prima del mostro di Firenze, dal caso mediatico che è diventato emblematico, immediato in primis per eccellenza, il caso Tortora, a seguire dal mostro di Pacciani nei casi della Franzone, il primo figlicidio mediatico, quanto questa influenza crea una dissonanza cognitiva, una distorsione della notizia e un fausto incidere su quello che è il processo, che parte da un teorema, molto spesso, non a caso noi in termini sociologici e anche storici, lo chiamiamo processo teorematico, cioè partire da un teorema di colpevolezza o di assoluzione, che molto spesso è quello che ritroviamo già nella fase investigativa, cioè quando non ci sono elementi oggettivi, non ci sono prove, non ci sono elementi appunto concreti che possano farci credere, farci proseguire verso la colpevolezza o l'innocenza di un potenziale reo. Quindi diciamo, ancora prima di raggiungere le tre fasi di giudizio, in una fase antefatto, quasi antefatto, nelle indagini, ritroviamo il teorema del processo di concetto, il processo teorematico, il costrutto teorematico. Quindi partire da questo teorema, molto caratterizzato dallo stereotipo, dal pregiudizio di colpevolezza o innocenza e volerlo in qualche modo avvalorare fino alla terza fase di giudizio. Di innamoramento della tesi un po' avviene. Sì, è un voler creare un caprio espiatorio, è un voler creare un mostro, è voler creare un colpevole che in qualche modo ci dimostri, poco importa se in maniera funzionale, quindi oggettiva, scientifica e oltre ogni ragionevole dubbio, un colpevole. Un colpevole che ci possa dire, la giustizia sta funzionando, la res pubblica, le istituzioni fanno completamente e in maniera appunto ottimale il loro lavoro, quindi noi cittadini, noi popolo siamo in qualche modo in buone mani perché tutto il sistema e l'iter si svolge verso quella che è una verità probabilmente che vogliamo ascoltare in maniera inconscia e questo c'è una sociologia molto specciola che ce lo spiega attraverso un processo di identificazione quanto di affrancamento, quindi di dissociazione. Identificarci con il male e allo stesso tempo dire che non ci appartiene e affrancarci da quel male perché il mostrum creato è molto lontano da noi e in qualche modo sottolinea anche la benevolenza e il positivo che c'è nelle nostre vite, nelle nostre coscienze, nella nostra quotidianità. Lontano da noi in senso geografico, sociale, come status? Lontano da noi innanzitutto, geografico non direi perché tante volte, lei l'ha analizzato in maniera ottimale nel suo libro sul mostro di Firenze, è possibile che il mostrum sia addirittura localizzato nella regione, nella Toscana. Quindi a livello geografico è ovviamente una notizia che va circoscritta e va analizzata caso per caso. A livello sociale per niente, e ce lo dice la statistica, per niente lontano perché noi parliamo di delitti di prossimità, cioè chi è più prossimo a noi, chi ci conosce meglio, che sia solitamente il nostro amico, il nostro compagno, il nostro fidanzato, il nostro marito. Secondo la statistica è colui che più di ogni altro, più di quello che è lontano, fuori dal nostro gruppo di appartenenza, autogruppo, è colui che ci uccide. È ovvio che questo riguarda i delitti appunto di prossimità, quali possono essere quelli che ritroviamo nei casi estremi di figlicidio, di femminicidio e non nel caso del mostro di Firenze, perché parliamo di un serial killer, quindi con delle connotazioni completamente diverse, l'anaffettività, l'incapacità di provare empatia, nel caso del mostro di Firenze, il voler l'essere organizzato e quindi anche bisognoso proprio di reiterare il reato. Prossimo a noi, non direi, il mostro di Firenze è lontano da noi in quanto mostro e anzi va allontanato e affrancato da quella che è la nostra quotidianità. È un mostro che va visto nella maniera più abominevole, nella maniera più appunto mostruosa. Quindi non inserito nella community, in questo caso fiorentina, parlando del mostro di Firenze? Ma no, direi non inserito, anche qui probabilmente è per un processo inconscio che riguarda la collettività, in questo caso toscano-fiorentina, perché è più facile colpevolizzare e stigmatizzare qualcosa che non ci appartiene, quindi non rientra nel nostro vivere comune, sentire comune, ma qualcosa che è lontano, verso il quale noi possiamo, noi inteso come comunità, collettività, possiamo puntare il dito. E quindi in uno caso specifico gli indagati furono, e i condannati, insomma furono delle persone che non ritroviamo nella normalità, nel quotidiano, esempio i sardi. Certo, lo stesso vigilanti, ma anche i compagni di merende, guardi, erano sì appartenenti, comunque ormai trapiantati nel posto, ma comunque molto lontani dal senso di civiltà comune e dal senso di tollerabilità comune della comunità fiorentina, perché al di là dei casi del mostro di Firenze sono stati sempre etichettati a giusta causa, perché erano dei, voglio dire, se non dei serial killer, come vedranno e come poi ci dirà l'iter giudiziario, delle persone lontane per comportamenti devianti a sociali dal contesto fiorentino. Quindi in qualche modo da etichettare, da allontanare, in quanto balordi che avevano commesso al di là dei delitti del mostro di Firenze, ripetiamo, un iter esistenziale sicuramente non accettabile. Nel caso specifico Pacciani fu condannato per una condotta sessuale, diciamo appunto abberrante e quindi in qualche modo questo fu una sorta di profilo personologico che lo ha etichettato e ha fatto sì che il profilo criminale lo rendesse mostro di Firenze ancora prima che avessimo la certezza che fosse reale mostro. E questo è un po' la sinossi di quello che ho cercato di dire, cioè di quanto i media possono, l'opinione pubblica, un profilo criminale costruito a priori, un processo teorematico, una teoria in questo caso di colpevolezza poi avalla la colpevolezza stessa che diventa realtà dei fatti se non avessimo poi raggiunto dopo oltre 30 anni l'innocenza dei tre indagati. Certo, Vanni era un postino ubriaco con comportamenti sessuali da prostitute, quindi Certo, parliamo di comportamenti appunto devianti da un punto di vista sociologico e sociale che in alcuni casi non sono diventati neppure reati come il legislatore vuole, quindi ponibili secondo il codice penale. Sì, c'è il discorso della testimonianza e qui entra in gioco il Giancarlo Lotti che era ridotto quasi allo stato di barbonaggio e quindi era una persona spesso ubriaca e qui entriamo nella psicologia della testimonianza, perché Lotti si sarebbe collocato e avrebbe preso la condanna confessando delitti che poi allo stato dei fatti quello che racconta non risulta oggettivamente credibile. Certo, come in tutti questi casi va analizzato proprio il frame, la cornice familiare, culturale, sociale, in questo caso di Lotti. Lotti socialmente era deprivato da ogni punto di vista, affettivamente, culturalmente, economicamente, in poche parole non aveva un tetto sulla testa, non sapeva dove vivere, dove dormire. Paradossalmente gli è convenuto anche colpevolizzarsi, rendersi colpevole per dormire in carcere. Non neanche perché non andò in carcere, andava... No, è quella la finalità che poi dalle testimonianze, dalle interviste addirittura avrebbe voluto. Questo rende molto significativo il paradosso di un'esistenza che poi si riduce a una praticità, in questo caso risolutiva, economica, che almeno nell'intenzione, nella mente del soggetto c'era. Certo, perché molta gente si domanda perché uno si autoaccusa. Certo, ci sono innanzitutto sicuramente dei problemi e delle disfunzioni e un deficit proprio cognitivo e culturale che ha portato con una certa facilità a determinati comportamenti e poi una realtà oggettiva di deprivazione economica che ha vallato questo deficit e questa personalità borderline, oltre la riga, oltre quello che normalmente noi riteniamo appunto normale, di accettabile da un punto di vista sociale e da un punto di vista sano del nostro senso civico appunto. Perfetto. Sì. Fatta adeguata, ma in maniera sufficiente la tutela dei cittadini. E quindi questo è un dato molto molto interessante.